Gentili signori, vi comunichiamo che da giovedì 3 marzo il parcheggio verrà recintato e non sarà permesso a cedervi. Per quella data dovrà trovarsi libero da persone o cose. Grazie, cordiali saluti, firmato Porta Cappuccina. E questo il testo riportato in due cartelli che si trovano qui all'ingresso del parcheggio di Porta Cappuccina. Siamo a fianco al cavalca ferrovia di Pesaro tra il parco Miralfiore e la stazione ferroviaria che si trova alla nostra sinistra e c'è questo cartello che dice come quest'area di sosta sempre molto frequentata dai pendolari da giovedì verrà chiusa. Da giovedì non sarà più utilizzabile e non saranno più utilizzabili circa 200 posti auto presenti in questa area. Basta guardarsi intorno anche oggi a mezzogiorno un parcheggio pieno in tutta la sua area che dunque verrà sottratto a beneficio del centro e della ferrovia. Si tratta di una chiusura figlia di una storia vecchia di 30 anni trascinata si succomodati d'uso del comune scaduti e fra accordi mai perfezionati fra lo stesso comune di Pesaro e la società Porta Cappuccina che è la proprietaria dell'area. La società infatti ha inoltrato ricorso al Tar chiedendo al comune un milione di euro di danni. Questo perché in passato il comune si era impegnato all'acquisto con un accordo che fissava il prezzo dell'area in 515 mila euro. Subetro invece la revoca della determina e l'atto fu impugnato da Porta Cappuccina davanti al Tar e mentre se ne attende l'esito il comune ha occupato quest'area senza mai versare un euro per l'occupazione. Un tiremolla che dunque arriva a una presa di forza da parte della controparte che da giovedì decide di transennare tutta l'area. Una questione mai risolta sulla quale anche l'opposizione in consiglio comunale attraverso i consiglieri Andreoli e Biagiotti ha presentato un'interrogazione urgente per capire quali sono le strade percorribili per mantenere quest'area strategica. Una situazione in mano agli uffici legali del comune e comunque andrà i tempi non saranno brevi e invece si cerca una soluzione più celere per garantire il respiro alla sosta della cittadinanza. Fra le soluzioni alternative per garantire la sosta potrebbe esserci quella che vedete alle nostre spalle. Questa area compresa tra la stessa Porta Cappuccina e la ferrovia che è stata acquisita dal comune è recentemente ripulita. Bisognerebbe aspettare l'asfaltatura ma in queste condizioni non è da escludere che si arrivi ad un'accelerata per dare a disposizione della cittadinanza questa area di sosta.